La vera grande novità di questa campagna elettorale saranno i sindaci, i sindaci del centro-sinistra, i sindaci democratici, perché noi porteremo in questa campagna elettorale che già si annuncia rissosa per certi aspetti anche troppo faziosa, piena di personalismi, noi porteremo tanta concretezza, porteremo questioni concrete, porteremo soluzioni pragmatiche su molti punti come l'ambiente, guardate i problemi della siccità, del traffico, dello smog, dell'efficientamento energetico, come la sicurezza, la sicurezza non è un monopolio di destra, la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini a cominciare dai più deboli, come anche le questioni del lavoro, le questioni sociali, noi sindaci siamo ogni giorno a contatto con gli anziani, con i giovani, ci occupiamo di problemi che stanno a cuore alle persone e porteremo una grande ventata di concretezza e di novità in questa campagna elettorale, saremo la più grande novità di questa campagna elettorale e saremo l'arma vincente del centro-sinistra del PD contro Fratelli d'Italia e Meloni.